Come se un giorno freddo in pieno inverno, nudi non avessimo poi tanto freddo perché noi coperti sotto il mare a far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutto il mondo, l'universo, l'universo, l'universo. Come se un giorno freddo in pieno inverno, nudi non avessimo poi tanto freddo perché noi coperti sotto il mare a far l'amore, ma ormai siamo i raggiungi. Grazie. Valerio Scano. Ciao Valerio. Ciao. Ciao, come stai? Bene.